Smaltiti correttamente circa 500 kg di amianto. Ad un anno dall'attivazione del servizio di Sei Toscana denominato Stop Amianto, dall'ufficio ambiente del comune di Castiglion Fiorentino arriva un primo bilancio. Circa 10 kit consegnati ai privati durante l'anno appena terminato, già consegnato un primo nel 2023. Il servizio offre infatti la possibilità ai privati cittadini di poter rimuovere in autonomia l'amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o dei locali di altro genere. Il comune partecipa ai costi di presa del carico del materiale e dotazione kit, restano invece carico del cittadino, i oneri relativi allo smaltimento e all'apertura della pratica USL. Un servizio per tutelare la salute pubblica e l'integrità ambientale, oltre che per prevenire il fenomeno dell'abbandono dell'amianto. Si tratta infatti di un materiale molto diffuso in natura, largamente utilizzato in passato, ma che diventa pericoloso quando le sue fibre si disperdono nell'aria. Il comune di Castiglion-Fiorentino, così nel rispetto delle linee guida sull'amianto redate dalla regione toscana, ha pensato di attivare il servizio opzionale di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiale in cemento-amianto da parte dei privati cittadini. Il kit per l'autorimozione contiene tutti i dispositivi di protezione individuale e i materiali idonei per l'imballaggio dei manufatti da rimuovere, previsto anche un manuale con tutte le istruzioni per l'uso che i cittadini dovranno seguire in maniera puntuale. È infine presente anche un videotutorial che spiega passo passo tutte le operazioni da fare.